L'Inps sta introducendo una nuova funzione di verifica dell'identità digitale per proteggere i dati personali degli utenti e prevenire frodi e truffe online. Questo controllo supplementare sarà attivato solo quanto l'utente chiede l'accesso ai servizi dell'istituto, con cretenziali diverse da quelle già utilizzate. La nuova funzione sarà disponibile per tutti i cittadini che hanno già verificato i loro contatti telematici. Il sistema invierà un codice temporaneo di conferma all'utente, che dovrà essere inserito per completare l'accesso. Allo stesso tempo verrà inviata una notifica di avvenuto accreditamento, in modo che l'utente possa prendere le dovute misure in caso di accesso non autorizzato.